Sei sicuro di voler fare il dipendente? Questa è la domanda che magari ci vogliamo porre oggi, perché magari chi vi sta parlando, sono Carlo Covasori, ho fatto l'attività del dipendente per un bel po' di anni, circa 15 anni, in cui ho fatto dipendente statale, per cui un dipendente è completamente privilegiato all'interno di quello che può essere il fatto di avere un lavoro fisso, di avere una costanza in quello che è una rendita che ogni mese entra dentro, in quel caso, ogni 27 del mese. Diciamo che all'interno di quello che può essere il fatto di essere un dipendente, ci deve essere anche un pensiero su quello che è il costo di andare a fare il dipendente, il costo di ritornare dall'attività, ma anche il costo di mangiare fuori, certe volte, magari di spendere quei soldi che ti servono per mantenerti anche fuori da casa. Io per esempio ho lavorato a Milano, ho lavorato a Trieste, io sono di Udine e quindi avendo lavorato in diverse città fuori dovevo spendere dei soldi per mantenermi e per stare fuori da quello che era la mia città e da quello che era la mia casa. E quindi spesso e volentieri ci si dimentica quelli che sono i costi, perché bisogna comunque far quadrare un bilancio ben preciso, ma soprattutto la qualità della vita, perché spesso e volentieri quello che è la qualità di un dipendente è sempre legato a un poco aiuto da parte di quelli che sono i tuoi superiori, i tuoi colleghi, e quindi un ambiente che forse non ti fa stare a tuo agio in quello che è un ambiente lavorativo, perché magari non è meritocratico, non ti dà quella soddisfazione per sentirti ancora più motivato alla tua crescita personale, al tuo sviluppo e quindi magari può essere un'evoluzione all'interno della tua attività, perché sicuramente ci sono delle persone che hanno ottenuto questo sviluppo all'interno di quello che è l'attività e quindi una crescita, uno sviluppo su quello che può essere la crescita personale, uno sviluppo su quello che sono i profitti, quindi sui guadagni, ma ovviamente siamo in un periodo un po' particolare della nostra vita e tutto questo è un po' messo da parte, secondo la mia opinione, perché conosco molti professionisti che operano proprio per dare le motivazioni a quelle che sono le persone che lavorano per aziende e magari anche dare un supporto a quelli che sono i titolari per far sì che ci sia più motivazione per quanto riguarda i dipendenti. E quindi io voglio chiederti se tu vuoi fare il dipendente e devi pensarci bene, perché fare il dipendente vuol dire fare magari sempre le stesse cose ogni giorno, avere una routine, una quotidianità che magari ti dà quella stabilità emotiva ed economica che magari tu stai cercando, perché magari ogni giorno non ti danno quella emotività di andare a lavoro ogni giorno, non ti danno quel desiderio di essere parte di un gruppo di lavoro, parte di un sistema, parte di qualcosa che ti senti più tuo. Oppure, come è successo a me purtroppo, è di stare a guardare quell'orologio che ogni giorno ti segna l'orario della tua fine del servizio, della tua fine dell'attività e quindi questo sicuramente può essere un limite. E quindi bisogna capire anche questo lavoro quanto tempo ti lascia a disposizione per la tua famiglia, quanto tempo ti lascia a disposizione per i tuoi amori, quanto tempo ti lascia a disposizione per quello che possono essere magari i tuoi hobby, le tue passioni e quindi magari capire se questo lavoro sicuro ti dà anche il denaro sufficiente per mantenerti in quello che può essere la tua vita, la qualità della vita che tu ti sei organizzato. È logico che tutta questa stabilità è una stabilità che può essere, mi auguro, più possibile una garanzia per te per quello che può essere l'attività, ma il mondo si sta evolvendo in maniera veramente pazzesca e quindi tutto quello che sta accadendo è che il mondo del lavoro tradizionale è sempre meno disponibile a quello che sono le persone che vogliono fare i dipendenti. Il lavoro da dipendente è mai una perla rara e quando è un lavoro da dipendente spesso e volentieri quella sicurezza di un lavoro, di una continuità, vengono un po' a mancare perché magari i contratti non sono a tempo indeterminato, sono dei contratti a tempo, sono dei voucher, sono dei sistemi che ormai vanno un po' a screditare tutto quello che è il lavoro delle persone e quindi il lavoro del dipendente incomincia a scendere dagli 8 euro, 7-8 euro in giù su quello che è un vero guadagnonetto perché se vai a considerare quello che è il viaggio per andare a lavorare, il viaggio da ritornare a lavorare, le ore che ci impegni per andare, il mangiare fuori o quello che può essere tutto l'insieme di questo progetto è logicamente un qualcosa che magari certe volte non prende in considerazione in cambio di quella che è questa sicurezza che tu hai bisogno. Quindi questa sicurezza secondo la mia opinione è una sicurezza che è un qualcosa di vago perché tutto quello che è questo mondo del lavoro è uno sviluppo veramente pazzesco, è uno sviluppo che neanche noi ci rendiamo conto, parlando con alcune persone che sono nel mondo del lavoro o mondo dell'evoluzione di quello che sia l'attività, neanche ci pensiamo quali possono essere i lavori dei prossimi anni, cioè i nostri padri, i nostri nonni mai più potrebbero pensare che le persone potessero guadagnare su quello che può essere un canale video online che potrebbe essere YouTube per cui ci sono tantissime tante attività che assolutamente non fanno parte di un lavoro tradizionale e quindi io ti chiedo se tu hai delle idee diverse da quello che è un lavoro tradizionale quello che può essere un qualcosa di diverso, contattami perché avrei qualcosa da raccontarti e quindi scrivimi pure via mail, scrivimi pure sul canale YouTube o sul canale Facebook e contattami al più presto, avrei veramente piacere di confrontarmi perché con la mia attività ho aiutato tantissime persone e ho avuto l'esperienza di essere un dipendente, di essere un libro professionista e anche un networker, quindi ti aspetto al più presto per fare 4 chiacchiere assieme grazie per il tuo tempo grazie per il tuo tempo